Il clan che dai quartieri spagnoli nel cuore di Napoli ha allungato le sue mani sul centro storico è stato stroncato questa mattina dai carabinieri. Sono 43 le persone finite in manette, tutte vicine ai Mariano, responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, ricettazione, traffico di stupefacenti, detenzione e porto abusivo d'armi comuni e da guerra. Tra i fermati ci sono non solo esponenti della malavita classica, manchi insospettabili e colletti bianchi titolari di noti ristoranti del centro come Patrizio Franco e Umberto Frattini considerati dagli inquirenti organici al clan. Alcuni di questi avrebbero gestito il denaro sporco lavandolo e portando introidi legali al clan. I carabinieri che durante la notte hanno perquisito diverse abitazioni e non solo nei quartieri spagnoli nel centro di Napoli hanno portato in carcere 34 persone mentre 9 sono state sottoposte ai domiciliari. Nel corso della mattinata si è tenuta anche una conferenza a Sampa nel corso della quale il capo della procura di Napoli, Colangelo, ha spiegato i motivi dell'arresto. Dimostra che la criminalità organizzata non è un'isola, non è un compartimento stagno. La criminalità organizzata opera nella città, all'interno della città e inevitabilmente viene a contatto anche con persone che svolgono le attività più disparate e ancora una volta sono una fonte di inquinamento del legittimo esercizio delle attività del lavoro di tutti e dello sviluppo della città. L'indagine sta dando a dato risultati importanti che sono in corso di valutazione, di sviluppo e noi ci auguriamo che possano venire chiavi di lettura per i fatti recenti. Ma sono in corso tante altre separate attività investigative che ci auguriamo possano portare profitto nei prossimi tempi.